Mike Magnani in uscita dal Milan, super offerta dalla Premier League Sono tanti gli interrogativi sul Milan della prossima stagione Il proprietario dei rossoneri, Gerry Cardinale, ha intrapreso una vera e propria rivoluzione La scelta di licenziare Paolo Maldini e Massara è stata forte e tutta da attribuire a lui Lo scorso mercato estivo non è stato ritenuto all'altezza e le visioni per il futuro erano differenti La dirigenza è ora però chiamata ad un grande mercato Per accontentare i tifosi bisognerà tenere tutti i top della rosa, molto legati a Maldini E riuscire a comprare giocatori di livello internazionale In base a quanto riportato da Evening Standard, dalla Premier League sarebbe arrivata una super offerta Per uno dei migliori giocatori del Milan, Magic Mike Magnan Il Chelsea infatti ha già iniziato il suo mercato Pocettino deve riscattare la deludente scorsa stagione E ha chiesto alla proprietà di acquistare innanzitutto un portiere Il primo sulla lista è proprio Magnan Per cui i Blues sono disposti a spendere ben 80 milioni di sterline, 90 milioni di euro Offerta che però sarebbe stata rifiutata dalla dirigenza rossonera Che non intende cederlo per nessuna cifra Il portiere francese è arrivato nel 2021 da Lille per 15 milioni di euro Con il compito di sostituire Donna Rumma Ma Magnan è andato ben oltre Dimostrando di essere uno dei migliori portieri al mondo E portando il Milan alla vittoria dello scorso scudetto 11 anni dopo l'ultima volta Per quale cifra lo cedereste?